Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nova TV, continuano queste temperature molto alte per il periodo, siamo su valori di fine maggio e inizio giugno, un'Italia divisa in due nei giorni scorsi, ma anche fino a ieri c'erano abbondanti nevicate sulle Alpi, sull'Apennino settentrano anche a quote intorno ai 1000-1500 metri, altra neve cade sullo scacchiere occidentale quindi dell'Europa, Portogallo, Spagna, nuovamente questa mattina nevicava in Marocco intorno ai 1300 metri di quota, tutte le volte che l'aria fredda scende sul lato occidentale europeo e sul Nord Africa c'è una risposta lungo i meridiani di aria più calda e quindi in questi giorni abbiamo avuto qualche debole pioggia mista a sabbia, la sabbia sempre presente nei nostri cieli, forse oggi è l'unica giornata in cui il cielo è un po' più terzo, ma sempre presente, proprio perché sono tanti giorni, tanto che c'è quest'aria calda, tanto che la neve abbondantissima, fino a 10-15 giorni fa, sta riducendosi drasticamente proprio negli ultimi giorni a causa di queste temperature che oscillano tra i 5-6 fino ai 10 gradi in più della media, come vedremo poi nella classica cartina degli spaghetti. Nel frattempo vediamo l'immagine del satellite che ci mostra, come vedete, un'Europa divisa in due, sul lato orientale c'è alta pressione, con aria anche mite, soprattutto sui paesi balcanici, un po' più freddo ancora in Russia, ma il grosso del maltempo è sul lato sinistro dell'Europa, vedete la Spagna praticamente è sotto una coltre di nube, una spessa coltre di nube, c'è aria fredda caratterizzata da quei ciottoli lì sull'Atlantico, denota l'aria molto fredda che come dicevo si va a tuffare fino su Nord Africa, sul Marocco e su di noi, c'è aria mite, soprattutto sulle regioni meridionali, invece parte del maltempo interessa anche le regioni alpine, infatti vediamo con l'ingrandimento sull'Italia, ci mostra questo ingrandimento, una praticamente un'Italia centro-medionale senza nubi, a parte un po' di nuvolosità sulle murge baresi, invece c'è altra nuvolosità sottile sulla Sardegna, invece maltempo ancora sulle Alpi, vedete il bianco delle Alpi, nevate tantissimo in questi giorni, in questa settimana, abbiamo avuto nevicati abbondanti in molte zone, si è superato il metro di altezza anche a quote piuttosto modeste, è una nuosità così anche di poco spessore tra l'Umbria, le Toscane, vedete il Lazio settentrionale, quindi andiamo a vedere il proseguo della giornata d'oggi, per la notte, abbiamo poche sorprese, con questa situazione avremo cielo praticamente sereno su tutta la nostra regione, quella nuvolosità che vediamo sulla murgia potrebbe trasferirsi nel corso della serata anche sulle coste ioniche a parte del nord del Materano, ma naturalmente si tratta di nubi piuttosto esigue, non avremo sicuramente precipitazioni. Per quanto riguarda la giornata di domani, l'aria fredda che continua ad arrivare su Nord Africa, piano piano scaverà una depressione, questa depressione si avvicinerà in qualche modo all'Italia, ma per domani sarà ancora lontano, interesserà soprattutto il mare aperto, la Sicilia e la Sardegna, andiamo a vedere quindi la previsione sul nostro territorio, una previsione ancora all'insegna della scarsa nuvolosità, poi con il passare delle ore avremo probabilmente un aumento delle nubi, spesso anche nubi velate, sottili, cirriformi, qualche altra nube di spessore più basso sulla parte meridionale della Basilicata, ma domani è ancora una giornata con tempo buono, caldo, nubi presenti, sì, ma con temperature decisamente superiore alle medie. Vediamo i valori previsti per domani, valori che sono vedete anche sia le minime che le massime, sicuramente superiore alle medie, soprattutto le massime. 7 gradi la minima potenza, 9 a Matera, massime di 22 gradi a Matera, 19 a potenza, sono valori di almeno 5 gradi in più delle medie che si dovrebbero verificare, registrare in questo periodo. La ventilazione dei bole da Nord-Est, ma pomeriggio sera di domani, comincia a rinforzare, a provenire da Est, proprio perché si avvicina la depressione da sud, quindi dall'Africa sale verso di noi, quindi la circolazione in senso anti-orario di tipo depressionario. I mari sono ancora quasi calmi o poco mossi per quanto riguarda domani. Andiamo a vedere la domenica, tra sabato notte e domenica avanza questa depressione, ma sarà solamente l'avamposto della perturbazione che poi invece andrà a colpire più direttamente delle regioni settentrionali. Da noi arriverà in mattinata aria ancora mite, molto calda infatti tra sabato e domenica, la notte tra sabato e domenica. Vediamo la giornata di domenica, soprattutto riferita alle prime ore della giornata di domenica, in mattinata avremo delle piogge sparse, saranno piogge ancora una volta miste a sabbia, avremo molta sabbia che cadrà, laddove cadrà la pioggia, non per tutto naturalmente cadrà, ma dove cadrà lascerà molta sabbia, quindi ancora una volta le nostre auto saranno sporche di sabbia come in questi giorni. Le piogge saranno molto effimere, esigue, non avremo precipitazioni significative, così come non abbiamo ormai da 15 giorni, le piogge sono scomparse dal nostro territorio e adesso per fortuna c'è stata la neve che si è sciolta, altrimenti le diche non avrebbero avuto molti litri di acqua in più rispetto ad ora. Per quanto riguarda la seconda parte della domenica, un miglioramento dovuto a un allontanamento della prima parte della perturbazione, una giornata all'insegna ancora di un bel tempo con temperature in lento calo, soprattutto sulla provincia di Potenza. Vediamo i valori per quanto riguarda la giornata di domenica, avremo massime in diminuzione, quindi 16 gradi a Potenza, intorno ai 20-21 gradi a Matera, per quanto riguarda le minime invece, valori miti, soprattutto sul Potentino, sono previsti in aumento, vedete, minime di 11 gradi, quindi fa caldo come dicevo domani notte, invece rimangono a stazionare a Matera dove avremo una maggiore forse possibilità di cielo sereno durante la prima mattina, quindi qualche grado in meno rispetto a Potenza, è una ventilazione che andrà rinforzando da sud-est, si dispone da Scirocco, arriva più verso di noi la depressione, richiama aria da sud-est, i mari tendono a essere mossi, probabilmente lo Ionio sarà molto mosso lunedì, per quanto riguarda domenica è ancora una situazione di mare mosso, dicevo c'è questo peggioramento in atto, infatti andiamo a vedere per quanto riguarda la situazione degli spaghetti prevista per lunedì, vedete ci mostra la temperatura in quota, sono sempre costantemente al di sopra delle medie, già partiamo da un sopra media di 4-5 gradi, il clou proprio tra sabato e domenica, rispetto alla linea rossa che rappresenta la media, avremo un divario di circa 10 gradi in più delle medie, questo divario si avvertirà più nelle zone interne, non sulle coste dove il mare è ancora piuttosto fresco e quindi mitica questa ondata di caldo, ma vedete in quota i valori sono decisamente al di sopra delle medie eppure per i prossimi giorni, nonostante un lento declino verso il basso, le temperature per almeno una settimana rimarranno al di sopra delle medie di metà aprile, anche il proseguo del mese di aprile sembrerebbe improntato a valori sopra media, qui però c'ho qualche dubbio, poi casomai più tardi tra qualche minuto e vi dirò anche il motivo, invece per quanto riguarda le piogge avremo una situazione di assenza di precipitazioni significative fino a domenica, da lunedì invece, soprattutto riferita alle zone interne, avremo molta pioggia, nelle ore pomeridiane si forma una circolazione di aria piuttosto instabile che dovrebbe rimanere per qualche giorno sulla nostra regione. Vediamo la previsione per lunedì, quindi stante queste cartine anche degli spaghetti che ci aiutano, lunedì avremo inizialmente cielo sereno poco nuvoloso, poi nel corso delle ore più calde, tarda mattinata, inizio pomeriggio, primo pomeriggio comincerà a piovere, avremo temporali nelle zone interne, sono i classici temporali estivi anche se siamo in primavera, ma la formazione è proprio più o meno simile come struttura. Per quanto riguarda il lato orientale della regione, probabilmente non avremo pioggia o qualche pioggia in tardo pomeriggio, inizio sera, quando il tutto andrà di nuovo migliorando. Per quanto riguarda i prossimi giorni, si scava la settimana prossima una depressione in quota, la cosiddetta goccia fredda, che possiamo vedere anche con l'aiuto delle cartine dei siti meteorologici mondiali, vedete la cartina riferita a lunedì mattina, il grosso del maltempo rimane sull'Atlantico, sull'Europa centrale, anche qui i geopotenziali sono piuttosto bassi per lunedì questo, è una goccia fredda, si forma proprio sull'Italia, vedete, tranne la Puglia, per il resto gran parte dell'Italia è sotto questa goccia fredda, quindi ecco il motivo della presenza dei temporali. Però anche nei prossimi giorni, la settimana dovrebbe proseguire su questo andamento, prende possesso una forte area di alta pressione che si denota dal colore rosso sull'Europa centrale, è un'alta pressione molto forte a tutte le quote che prenderà sia il centro sia il nord dell'Europa, sul lato orientale invece vedete dalla Russia scende un pochino di aria fredda, sempre in quota naturalmente. Ecco il motivo per cui ci dovrebbe essere molta instabilità nei prossimi giorni, quindi da lunedì fino a venerdì probabilmente compreso, temporali sempre possibili nel pomeriggio. Poi dicevo, gli spaghetti non fanno vedere a lungo termine un afflusso di aria fredda, ho qualche dubbio in quanto nella terza decada di aprile alcuni modelli iniziano a intravedere una possibile andata di aria fredda che potrebbe lambire quanto meno il nostro Paese, questo dicevo nella terza decada di aprile avremo modo di riparlarne sicuramente venerdì prossimo. Per il momento vi auguro un buon weekend e arrivederci sulla nuova TV.